Una boccata d'ossigeno per un settore in difficoltà come quella della pesca a causa dell'emergenza coronavirus arriva dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che entro aprile provvederà a erogare i contributi che spettano agli operatori del settore per il fermo pesca relativo al 2018. I fondi relativi al 2019 saranno invece erogati a partire da settembre e quanto sottolineano in una nota congiunta i parlamentari sal del Movimento 5 Stelle, il senatore Emiliano Fenu e il deputato Alberto Manca. Ogni anno ai pescatori vengono liquidate le competenze relative al fermo pesca dell'anno precedente, sottolineano nella nota i due parlamentari pentastellati, ma le lungaggini burocratiche hanno impedito al Ministero delle Politiche Agricole di erogare per tempo i contributi relativi alle annualità 2018 e 2019. Se a questo ritardo nei pagamenti aggiungiamo anche la momentanea impossibilità di lavorare a causa del diffondersi dell'epidemia, è facile comprendere la gravità della situazione in cui versano gli operatori del settore della pesca, i cui problemi non possono restare inascoltati. A questo proposito, scrivono Manca e Fenu, gli organi ministeriali competenti sollecitati a provvedere all'erogazione dei pagamenti dovuti ai pescatori hanno comunicato la data di fine aprile per l'avvio del leader di pagamento delle competenze 2018 e la data di settembre è per quella dei pagamenti delle competenze 2019. Il governo del Parlamento, concludono i parlamentari sardi, dimostrano di essere vicini ai problemi degli operatori del settore pesca e sono a lavoro per attenuare la gravità delle conseguenze economiche che questa crisi sta comportando.